Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, c'è questa bellissima promozione su BitGet che vi segnalo, ragazzi. Trovate il link in descrizione. Credo sia per tutti. Vi basta andare su questo link che vi lascio in descrizione, premere su registrati e se depositate 50 dollari ne avete 50. Fantastico! Quindi potete avere 50 USDT bonus, trading bonus, quindi che non potete prelevare ma potete utilizzare questi bonus per fare trading o copy trading e guadagnare quello che guadagnate, se guadagnate lo potete prelevare. Quindi cliccate su registrati, poi depositi 100 USDT e ne ricevi 50 di bonus. Quindi con 100 USDT puoi fare trading con 150 e quindi hai più forza, hai più margine. Poi se fai un volume di trading spot di 1000 USDT ne hai altri 20, che è 1000 USDT sul mercato spot di volumi, alla fine. Si fanno e questo è ancora più semplice nel mercato future, se fate 5000 USDT di volumi, quindi qua è ancora più semplice perché avete la leva, e ne avete altri 30, quindi totale 100 USDT gratuiti. Credo sia anche per gli utenti che sono già iscritti con il mio link, quindi andate nel link e cliccate su registrati, fate il deposito e fate i volumi, e così potete avere 100 USDT, per tutti quelli nuovi iscrivetevi con il link che vi lascio in descrizione, il mio link, vi iscrivete con il mio link, avete anche il 10% di sconto sulle fee, poi venite su questa pagina, che è il secondo link che trovate in descrizione del video, vi registrate alla promozione, depositate, fate i trading, avete 100 USDT. E' attiva da adesso, tipo è partita il 4, no, il 5 aprile, è appena partita, ci sono 14 giorni, e scade il 20 aprile. Però ragazzi, il monte premi è di 50.000 USDT, quindi chi prima arriva, il monte premi totale di 50.000 USDT, sarà distribuito in base all'ordine di arrivo, quindi clicca adesso, così da non perdere il posto. Per poter ricevere i premi, gli utenti devono completare la verifica di identità KYC, durante il periodo della campagna. Quindi ragazzi, vi dovete registrare e dovete verificare e quindi mandare il documento. E poi i premi saranno distribuiti entro 7 giorni in lavorativi dal termine dell'evento, sotto forma di trading bonus. Ok, quindi fate le vostre cose, tradate, e poi entro 7 giorni dalla fine della promo che finisce il 20 aprile, ricevete il bonus, questo per essere chiari e trasparenti. In descrizione vi lascio anche la mia strategia di trading che sto adottando su Bitcoin in questo momento, vi faccio vedere oggi 59 USDT sul conto future. Ho lavorato molto, ho tradato poco, però 59 USDT mi sono portati a casa. Se volete saperne di più vi lascio il link in descrizione, anche qui nelle schede della mia strategia. Vi lascio tutti i link per potervi prendere questa promozione. Chi prima arriva meglio alloggia. Ci sono 50.000 USDT, iscriviti con il mio link, fai il deposito di 50 USDT. In descrizione trovi anche tutti i tutorial su BitGet, ma li trovi anche nel mio canale YouTube. Iscriviti al canale. Beccati questi 100 dollari gratis. Tutti i link sono in descrizione. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!